Nell'ambito dei controlli predisposti nell'area della stazione Termini e zone limitrofe, gli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana e della sicurezza pubblica emergenziale della polizia locale di Roma Capitale hanno sventato in poche ore due furti, riconsegnando la rifurtiva ai legittimi proprietari. Ieri mattina una turista spagnola è stata derubata delle valigie che aveva appoggiato accanto a sé per pochi istanti alla fermata dell'autobus in via Giolitti. I vigili si sono subito messi alla ricerca del responsabile grazie al GPS di un iPad contenuto all'interno dei bagagli rubati. L'hanno rintracciato in breve tempo in piazza Vittorio. L'uomo, cittadino kosovaro di 64 anni, è stato subito fermato e le valigie restituite alla legittima proprietaria che sollevata ha ringraziato gli agenti. A distanza di poche ore, un'altra pattuglia della locale ha invece bloccato nell'immediatezza un trentenne di nazionalità ucraina che aveva appena sottratto nove libri da un negozio all'interno della stazione. Entrambi i soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.